I ragazzi di Vettore, i ragazzi di Siena Lugia, i ragazzi di Tadiano, Lorenzo, Siena, Berlusa, I ragazzi di Siena, con chi l'ho? Ti devo presentare, sicuramente ognuno di voi è stato alla villa di sconetta di Stade, non prendetevi per il culo. Il giallo ufficiale di Siena Lugia in quest'anno, dove fosse stato, si chiama Nicola P. Quest'anno, Lady Siena Lugia, abbiamo fatto grandi acquisti sul mercato di locale. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8. Cisiona Lugia, ho detto, ci ci no! Non mi sentino sober! sulle mani facciamo la presentazione di Chiesa Lugano il concerto a noi il concerto a noi il concerto a noi il concerto a noi presentazione ufficiale quest'anno i torbi al tempo davanti Michael Casani la voce questa notte ufficiale sarà dov'è? dov'è? faccia sì quest'anno purtroppo ci sarà quando hai il tempo libero richiesto dai milioni locali d'Italia dopo degli altri anni ha fatto il suo tiro Giglio qui in Toscana è scontato al Pineta Pineta il Pineta quando uno parla di Pineta parla di più vista più becca e non pericola più rincona più rincona per vedere però ti va volare queste cose non le conosce e di se c'è la moda avrezza la sce più a Toscana e di adesso no ho il gruppo in Toscana Tele si alla Giulia La gente è molto loca. 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 La gente è molto loca.